ciao e bentornati a tutti sul canale la cucina serena oggi voglio cucinare con voi dagli stick croccanti di ceci ci servono 100 g di farina di ceci 25 g di farina di mais e 25 g di farina di riso sarà dunque una ricetta senza glutine 600 g d'acqua un mix di spezie e erbe io ho scelto erba cipollina curry salvia e un mix di pepe sale e un pochino d'olio possiamo iniziare per prima cosa versiamo l'acqua in una casseruola e aggiungiamo le erbette e le spezie a nostro piacere saliamo e portiamo a bollore nel frattempo mixiamo le farine quando l'acqua avrà raggiunto il bollore versiamo le farine a pioggia e cuociamo per 10 minuti continuando a mescolare una volta pronto possiamo rovesciare il composto in una pirofila e lo facciamo raffreddare una volta che il composto è ben freddo lo tagliamo con un coltello bagnato in piccoli stick più saranno fini più diventeranno croccanti e Grazie a tutti. Per ultimo andiamo a metterli su una teglia con caltaforno unta con olio extravergine, li andiamo a disporre ben distanziati, li inforniamo a 200 gradi per una mezz'oretta finché li vedremo belli croccanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.